Questa mattina in Regione c'è stato un incontro importante per il Comune di Colle al Metauro? Sì, un incontro importante, indubbiamente anche positivo, ancora comunque non definitivo. Quindi voglio essere certo ottimista, ma dobbiamo ancora avere qualche certezza e speriamo di essere più precisi da qui alle prossime settimane. Intanto voglio ringraziare il consigliere regionale Federico Talè, che ha organizzato questo incontro tra me e il Presidente della Regione Marche, Luca Cerisoli, e ti dirò che è stato un incontro sì positivo ma soprattutto utile, perché qui parliamo di ristrutturazione della scuola elementare Dezzi di Saltara, che è l'attuale scuola che è stata sgomberata dopo il terremoto dell'anno scorso e posizionata all'interno della sede della delegazione comunale di Calcinelli, dove dovrebbero essere raggruppati tutti i servizi comunali, che oggi invece sono ancora sparsi sul territorio di Colle al Metauro. Quindi una doppia funzionalità, ristabilire una sede scolastica importante e funzionale per gli alunni e nel stesso momento rifare da capo una sede comunale funzionale per la macchina amministrativa. Questo io ho spiegato al Presidente della Regione e quando dico utile, perché è vero che noi eravamo inseriti in una gradatoria ai primi posti, a livello regionale, su quel progetto, però non era una gradatoria che per forza sarebbe stata seguita alla lettera, era una decisione di giunta, giunta regionale, poi a chi dare questi soldi, che lo Stato ha garantito. Un'altra bella notizia, lo Stato, il Governo ha già fatto un decreto che indirizza verso la Regione Marche una serie di fondi. I soldi non sono ancora arrivati ma dovrebbero essere in itinere. Il decreto è già stato votato dal Governo. Conseguentemente la Giunta regionale e il Presidente ci hanno garantito che, conoscendo le motivazioni che oggi gli ho portato, quando i fondi saranno ufficialmente assegnati, potrebbe essere domani come potrebbe essere tra un mese, non lo so, ma dovrebbero arrivare, la Giunta delibererà a favore anche di Coglio al Metauro. Questa è una bella notizia, ma sinceramente la notizia vera la vorrò dare quanti soldi li vediamo per davvero da qui ai prossimi settimane, ai prossimi mesi, perché noi nel programma abbiamo l'appalto e la realizzazione della nuova scuola Dezzi a Saltara per il 2018. Quindi aspettiamo con ansia questi fondi.